Benvenuti, oggi è il 25 settembre 2014, Italia drawdown, per i fire numero 1, lui dice Michele Barbati, seguito a CrossFit Team della Città. Si tratta, no? Grazie. 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 Grazie a tutti. L'ultimo 2, l'ultimo 2, tira forte, tira forte, vai, vai, sento, vai, eh, uno alta, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, bella solta, cicatriz, sim placate, tira forte, tira forte, tira forte, vai, seирован, Zustura, tira forte, se Terce400, Ritira, Tira forte,只 NerdoإsmilYN, Tira forte. Grazie. andiamo a terzi, due minuti vai fai un gran risultato dai che sei 1.25 dai non calare, non calare dai regolare così, vai regolare un minuto vai, vai, vai vai, vai, non calare adesso, non calare mantieni dai, 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 dai tira, tira, tira ottimo 30 secondi dai, di 30 secondi da poco sprint 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 vai, 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 vai 10 secondi, vai vai, vai vai, vai vai ancora, ancora, ancora spara 2, 1 bravo 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 bravo